Sì, i nostri emendamenti praticamente danno un'impostazione ben diversa da quella della Giunta che è la solita finanziaria che dà solidarietà a tutti, in realtà leva molto a tutti. Noi vorremmo aumentare l'IRAP anche agli istituti di credito che in particolare non ribaltano il credito che dovrebbero dare alle aziende e invece vorremmo toglierlo l'imposizione fiscale IRAP o quantomeno diminuirla a quelle aziende che sono virtuose, cioè quelle che investono su se stesse che producono posti di lavoro, quelle che inseriscono le madri anche nel ciclo lavorativo. Inoltre vorremmo anche difendere i nuovi poveri in tre modi ad esempio. Vorremmo togliere il ticket al costo dei farmaci o interventi medici per le partite IVA che sono i nuovi poveri, ci sono tanti che sono costretti ad aprire una partita IVA perché non trova un posto di lavoro, in realtà non hanno neanche 12.000 euro di reddito all'anno quindi a loro noi vorremmo destinare appunto farmaci gratuiti con l'esenzione quindi dal ticket. Vorremmo inserire un bonus bebè non solo a chi fa lavori di pubblica utilità ma soprattutto in particolare alle famiglie italiane che si vedono superate in graduatoria da tante famiglie che hanno numerosi figli ma che non sono italiani e non pagano le tasse da noi. Così anche vorremmo stornare i 2 milioni di euro che vengono dati nuovamente per il servizio di immigrati e ROM in particolare ai genitori separati. Ci sono una grande fetta sociale di genitori separati che non riescono a cedere neanche avere gli alloggi in affitto, quindi vorremmo destinare anche a loro. In ultimo, coerentemente a quanto abbiamo fatto anche presentando la legge sullo sport per noi lo sport è uno dei settori fondamentali su cui investire perché investire sullo sport vuol dire risparmiare sulla sanità. Un migliore stile di vita è provato che faccia risparmiare costi per la sanità quindi chiediamo di aumentare gli investimenti anche per le strutture e gli impianti sportivi.